Ciao amici di Youtube, come state? Beh, spero bene! Intanto io, per rinnovarvi l'appuntamento del martedì con la nostra diretta dei vinili, potrei dirvi che questo potrebbe essere un abbigliamento che ben ci sta in uno dei prossimi martedì. Tra l'altro sto facendo le recensioni per Glamissima, quindi se avete voglia andate sul canale Glamissima, iscrivetevi, guardate le varie recensioni, mettete un mi piace e magari potete prendere anche spunto per regalare qualche calza molto interessante come questa che sto indossando adesso di Amazon in collaborazione con Walford, un noto brand tedesco a livello di calze molto alto, ma con Amazon c'è la possibilità di acquistarla a un prezzo più ridotto e quindi potrebbe essere un regalo da fare alla vostra dolce metà. Per cui io vi aspetto naturalmente i martedì, come sempre alle 9.30, per un appuntamento dedicato alla storia dei vinili e chi lo sa che non mi ritroverete qui.